Sergio Persegani, natore dei giovanissimi regionali, in una categoria in cui non si deve guardare la classifica. Noi prendiamo spunto dalla classifica per cercare di spiegare la crescita che sta avendo questa squadra tramite il lavoro. All'inizio stagione si ristagnava, diciamo così, nelle zone basse della classifica, i risultati faticavano ad arrivare. Poi, col continuo lavoro durante gli allenamenti, la squadra si è ripresa, sta crescendo. Adesso si arriva da quattro vittorie consecutive e un pareggio, quindi i risultati utili sono già cinque. E questo testimonia la crescita della squadra. Ecco, siamo partiti un po', c'era un po' da costruire, diciamo, prima il gruppo, poi la squadra, una mentalità adeguata alla categoria. Dunque, si sapeva che c'era bisogno di tempo, perché nella Rosa c'erano anche parecchi giocatori nuovi. Dunque, l'assemblaggio poteva richiedere un po' di tempo e praticamente, diciamo, l'impatto è stato duro, nel senso che siamo stati messi subito di fronte a delle squadre di blasone organizzate, dove è venuta fuori proprio la caratura tecnica delle squadre e si è fatta un po' fatica. Però in questo momento abbiamo, non dico la presunzione, però la consapevolezza che possiamo giocarcela un po' con tutte. Ecco, la squadra l'anno scorso giocava nei provinciali, quindi quest'anno ha fatto il salto nei regionali, comunque lì si sente. All'interno degli allenamenti è stato proposto tanta tecnica, ma anche l'inizio di qualche nozione di tattica. Ecco, su questo abbiamo lavorato all'inizio sul 4-3-3, poi così io credo che bisogna un po' che i ragazzi si abituino un po' a dei sistemi di gioco, perché cambiando tutti gli anni magari o allenatore o chi per esso magari devono abituarsi e non devono essere impreparati. E noi allenatori dobbiamo dare più nozioni possibili. Adesso credo che abbiamo un po' raccolto i frutti di un periodo dove si vedeva che la squadra stava facendo bene sotto tutti gli aspetti. E di conseguenza, ripeto, si lavora sulla tattica, ma si lavora anche sulla parte fisica, perché nel primo anno i giovanissimi bisogna cominciare a far vedere ai ragazzi delle esistrazioni soprattutto a livello coordinativo e soprattutto devono imparare a conoscersi, sapere la loro soglia di sofferenza fino a che punto arriva. E con il nostro preparatore Sanni e col collaboratore Angelo Comelli cerchiamo di dividere i gruppi per fare un certo tipo di lavoro abbastanza programmato per cercare di dare ai ragazzi anche in questo settore tutte le informazioni. Domenica ci sarà lo scontro contro il Virtus Bergamo prima in classifica. L'obiettivo, al di là del capire a che punto è la crescita della squadra, l'obiettivo a lungo termine è quello di entrare possibilmente nelle prime otto per giocarsi poi alla fase d'eccellenza. Questo è il nostro obiettivo, perché abbiamo capito che è un obiettivo che possiamo raggiungere, ma lo possiamo raggiungere attraverso l'umiltà e il lavoro settimanale, perché solo con le parole non si va da nessuna parte. Dunque l'idea, e l'abbiamo dimostrato già domenica, tra virgolette, contro una squadra del nostro livello, a pari punti, che la squadra può ambire a questo risultato. Domenica non è questione di risultato, ma vedere proprio la crescita mentale, soprattutto di fronte a una squadra che è, tra virgolette, nettamente più forte. Però questo sarà un modo anche per capire veramente il reale valore della Rosa.